Un saluto a tutti Dalla redazione di Rossini TV E benvenuti a questo nuovo appuntamento Con il Vallefoglia Magazine Il settimanale di approfondimento Della città di Vallefoglia Prima di iniziare con il TG Vi ricordo che potete essere voi Il nostro pubblico I protagonisti di questo magazine Come? È semplicissimo Attraverso una vostra segnalazione Trovate qui in sovraimpressione Come contattarci Ovvero al numero Whatsapp Oppure alla nostra mail di redazione Vallefoglia.rosinitv.it Potete inviarci immagini Potete inviarci video Potete inviarci semplici messaggi di testo Oppure messaggi audio Per quanto riguarda il Whatsapp Ma iniziamo con la prima notizia Del nostro Vallefoglia Magazine È stata una settimana importante Dal punto di vista di un tema Ovvero quella della realizzazione Di un impianto di biodigestore a Talacchio Noi abbiamo sentito il sindaco Della città di Vallefoglia Ovvero Palmi Rucchieli Che ha voluto esprimere la sua opinione In merito A proposito di tutta la discussione Sul biodigestore proposto da Marche Multiservizi Nel territorio della provincia di Pisa Urbino A Vallefoglia non c'è nessuna proposta Come ho detto Formale In comune E quindi discutiamo di una cosa che non c'è Se ci sarà una proposta Quando ci sarà una proposta La valuteremo attentamente Con due obiettivi Tutti gli insediamenti produttivi Gli insediamenti abitativi Stanno nelle norme Della tutela della salute Che è la prima cosa che abbiamo sempre guardato E anche Diciamo Tutti i miglioramenti ambientali Ecologici E di Bellezze naturali Come abbiamo sempre fatto Quindi Nella programmazione Del piano regolatore Le cose che sono previste Si fanno Ma si fanno Tutelando la salute E tutelando l'ambiente Del paesaggio E sulle teme riguardanti Il biodigestore Ha voluto esprimersi anche La presidente Di Lega Ambiente Pesaro Rosalia Cipolletta In questo servizio Ci ha tenuto a spiegarci Quali sono i benefici Della costruzione Di un impianto di biodigestore E perché Occorrerebbe farlo Allora Lega Ambiente Da tempo Che ha ripreso La discussione Sulla vicenda dei rifiuti In particolare Nelle Marche E anche a Pesaro E ritiene che Il passaggio virtuoso Che la nostra provincia Ha anche avuto Nella raccolta Dei rifiuti Nel differenziato In particolare Dovrebbe terminare Con La costruzione Di un impianto Come appunto Il biodigestore Che Ecco Porterebbe a compimento Questa raccolta virtuosa Questo Questo giro Che abbiamo Iniziato Tanto tempo fa Perché Il biodigestore Secondo noi È importante Perché Intanto Farebbe sì Che i rifiuti La frazione organica Dei rifiuti Naturalmente Parliamo di quella Potrebbe trasformarsi In biometano Da trazione E in compost Per l'agricoltura Da utilizzare In agricoltura Quindi Noi avremmo Dai rifiuti Otterremmo Delle sostanze Che si possono Riutilizzare Quindi sono Delle risorse Che rimettiamo In circolo Secondo il principio Appunto Dell'economia circolare Che Sulla quale Noi ci siamo Spesi molto Ci crediamo Come del resto Ormai Ci credono Tanti economisti Che da questo punto Di vista Insistono Perché I cittadini Le aziende Le comunità Gli enti locali Ecco Si facciano Promotori Appunto Di questo Riutilizzo L'impianto Poi Secondo la nostra Opinione Farrebbe anche Un'altra cosa Molto importante E cioè Eviterebbe Il passeggio Chiamiamolo così Di centinaia Di camion Che partono Dalle nostre zone E portano I rifiuti In fuori regione Dove poi vengono lavorati E naturalmente Noi capiamo Che con questo Trasporto Enorme La CO2 Aumenta Quindi aumenta L'inquinamento Dell'aria Cosa che È assolutamente Da evitare Se è vero Come è vero Che siamo arrivati A un punto tale Che se non si prendono Appunto Iniziative Vere Concrete Per ridurlo L'inquinamento Avremo dei problemi Molto seri Sia per la salute Dei cittadini Che anche Per la sopravvivenza Dell'ambiente Questo minore passeggio Inoltre Cioè Questi camion Che verrebbero Quindi eliminati Riducono anche Il costo Della lavorazione Dei rifiuti Evidentemente Se c'è Una riduzione Del costo Evidentemente Ci deve essere Anche una riduzione Per esempio Dell'Atari Che oggi Poggia sui cittadini Quindi c'è Un vantaggio Anche Economico Ma ripeto Per noi Il vantaggio Più grande Del biodigestore Quindi di una Lavorazione Dei rifiuti In loco È dato Proprio Dalla riduzione Dell'inquinamento Ambientale E dalla Possibilità Del riutilizzo Dei rifiuti In sostanze Invece Utili Secondo appunto Il principio Dell'economia Circolare Per questo Insistiamo Faremo delle iniziative Anche divulgative Di informazione Nei confronti Dei cittadini Che devono Essere Messe a corrente Ovviamente Di queste situazioni E di che cosa Significa E mossi Dalla notizia Di un possibile Impianto Di biodigestore Atalacchio Diversi cittadini Della città Di Vallefoglia Hanno voluto Esprimere Il loro pensiero In questo Specifico caso Non si contesta La funzionalità O la necessità Dell'impianto Ma bensì L'ubicazione Noi cittadini Di Vallefoglia Siamo allarmati Dalle notizie Che sono apparse In questi giorni In cui si parla Di impiantare Un impianto Di trattamento Rifitti organici In questa zona Industriale Che presenta Già di suo Innumerevoli criticità Quest'area Che è stata edificata All'inizio degli anni Settanta Come zona artigianale È stata poi Negli anni Quasi Abbandonata E gesta Ad ora Anche a causa Della crisi economica Che ha colpito la zona Negli ultimi periodi In uno stato Di semiabbandono Le criticità Già presenti In quest'area Sono Una innumerevole Stensione E tanti opifici Ricoperti con Ethernet Con amianto Ci sono Opifici Incendiati Negli ultimi anni Che sono ancora In uno stato Di abbandono Con tracce di Ethernet E di amianto Abbandonate Ci sono Già impianti Di biogas Esistenti C'è un impianto Di trattamento Di acque industriali Che sversa Nel fiume Foglia Quindi È un'area Che negli anni È stata già Martoriata Si può dire Da tante situazioni E andare A continuare A incrementare Con ulteriori Insediamenti Ulteriore cementificazione Ci desta Qualche pensiero Qualche preoccupazione Io Come anche Tanti cittadini Siamo preoccupati Non solo Per il biodigestore Ma la cosa È legata Al trasporto Di questi materiali Che Calcoliamo Che questa mole Di merce Che viene trasportata Dalla mattina Alla sera Viene percorsa Da Pesaro Che sarebbe L'uscita del casello Fino ad arrivare qui Non è che interessa Solo la zona di Talacchio Perché per fare questa cosa Investirà Molti paesi Che sono Nella Montelabattese E oltre a portare Questo logo qui Avremo un via vai Che è incessante Loro dicono Che sono pochi camion Però quanto alla fine I camion Saranno parecchi Io non sono contrario Al biodigestore Come struttura Perché la tecnologia Va avanti Però giustamente Ci sono i pro E i contro Su tutte le cose Un biodigestore Cosa fa? Può essere Aermetico Come in questo Come in questo caso Però ha degli scarti Che possono essere Sia Particolato Che è una sostanza Liquida Che verrà sversata Nei campi E ha bisogno Di tantissima acqua Per alimentare Questi acceleratori Che sono messi dentro In queste campane Per fare questo lavoro Avrà bisogno Di tantissima aria Che verrà bruciata Con l'ossigeno Insieme con il gas Che il gas Che viene prodotto Non è metano Al 95-98% Ma è una percentuale Molto più bassa Sul 50% Il resto sono sostanze Che purtroppo Camminano nell'aria E investeranno Tutta la zona Passare da Borgo Massano Tutte le Vallefoglie Fino a Pesaro Uno non deve pensare Che dice Io abito a Pesaro Non succede niente Questo impianto qui 365 giorni all'anno 24 ore al giorno Lavorerà di continuo Una volta impiantato Sul nostro territorio Non sarà più possibile Smontarlo Io come mio cittadino E anche come saluti Di tutti gli altri Ritengo opportuno Di non farlo In questa zona Sarei più contento Più nelle zone Vicino all'autostrada Allora Premetto una cosa Questo discorso Che ho fatto io Non è legato A una questione politica Di destra Di sinistra O di centro Perché è una cosa Relativa alla salute Dei cittadini E tutte le persone Che lavorano qui Oltre a quelli Che ci abitano Saranno investite Gli operai 8 ore al giorno Sempre di continuo Con questo scarico Di combustione Sono dei discorsi Da approfondire Che si chiamano Nanoparticelle Che dobbiamo avere paura Non delle cose Che vediamo Non delle cose Che non vediamo Io penso alla salute Di tutte le persone Che sono qui E anche personalmente La mia Un altro punto Da non sottovalutare Il vento Che come in questo momento Sta soffiando Da monte a valle Quindi andrebbe a colpire Tutto il circondario Dell'abitazione E dei paesi Che c'è Morciola Montecchio Bottega E padiglione E ora Cambiamo argomento In una location Autentica E speciale Immersa nelle verde Ha origine La celletta Country House Un posto meraviglioso Che ogni anno Accoglie tantissime persone Noi abbiamo parlato Con uno dei suoi soci Roberto Arduini Che però Ci ha parlato Di un problema Ovvero Quello della strada Che porta alla struttura Che da tempo Si trova In pessime condizioni Buongiorno a tutti Noi abbiamo una visione Molto chiara Noi vogliamo Creare un luogo Bello Dove poter vivere insieme Emozioni positive Quindi creiamo Un'atmosfera Che è composta Di tanti piccoli dettagli Che vanno Dal menu Vanno All'arredamento Vanno dal giardino Dalle piante Vanno Dalle esperienze Che si possono vivere Qui da noi Il bello E l'esperienza Sono la chiave Del nostro lavoro Sono la nostra visione E cerchiamo di Per quanto possibile Costruirla E poterla comunicare Ai nostri ospiti In questo ambito Qui Abbiamo L'anno scorso Fatto tutto un lavoro Di manutenzione Saordinaria Quindi abbiamo Cambiato i colori Li abbiamo Resi In linea Con quelli che sono I colori Del comune di Urbino Che ha una tabella Colori Relativamente alle strutture Relativamente agli infissi Abbiamo Abbiamo fatto Un impianto Abbiamo installato Un impianto fotovoltaico In modo da essere Indipendente Dal punto di vista Energetico Rinnovato Gli arredamenti Rinnovato Tutti i servizi Che erano a disposizione Delle appartamenti E quindi Abbiamo anche Riqualificato La struttura Dal punto di vista Del menù Offerta Ristorante Quindi abbiamo Mantenuto Quello che erano I piatti tradizionali Ma nel contempo Abbiamo cominciato A dare delle novità Novità Che permettessero Agli ospiti Di fare sempre Delle esperienze nuove Quindi sempre Legate alla tradizione Ma anche Con un po' Un occhio Al rinnovamento Al cambiamento Specialmente Per i giovani L'anno La stagione Che si sta chiudendo È stata una stagione Dura Difficile Per via Del coronavirus Ma nonostante tutto Noi abbiamo Lavorato bene Abbiamo Ci siamo Abbiamo messo a norma La struttura Per quello che riguarda Le misure anti-covid Anzi siamo andati Anche oltre Perché abbiamo Ad esempio Un sistema Ad ozono Che viene utilizzato Per sanificare Tutti gli appartamenti Che è oltre Praticamente Quello che prevede La norma E su questo Siamo stati Premiati Quindi Soprattutto Da turisti italiani Abbiamo avuto Stranieri Ma veramente pochi Contrariamente A quello che accadeva Fino Fino all'anno scorso Dal punto di vista Dal punto di vista Funzionale Noi abbiamo Abbiamo Un grosso problema Che è quello Relativo alla strada L'accesso alla struttura La strada Purtroppo È suddivisa Fra due comuni Il comune di Vallefoglie Il comune di Urbino E in particolare Il tratto del comune di Urbino È molto rovinato Il pezzo finale I comuni Stanno andando a fare E hanno promesso Che entro Ottobre La parte finale Il comune di Urbino Verrà sistemata E entro primavera Dovrebbero Asfaltare Anche questa parte Qua finale La parte iniziale La parte iniziale Quella sul comune di Vallefoglia È sempre stata Manutenuta Abbastanza bene Per oggi La situazione È veramente problematica Noi abbiamo avuto Diverse famiglie Quest'estate Che sono arrivate E sono andate via A causa della strada Hanno cancellato La prenotazione E non potono fare niente Cioè avevano macchine Magari basse Che toccavano Oppure anche persone anziane Facevano fatica Proprio per attivamente A guidare E abbiamo anche Difficoltà Con le cerimonie Perché La strada È veramente rovinata E quindi Bisogna pensare A un matrimonio Magari una macchina storica Che accompagna La sposa Cosa di questo genere Qui Non riusciamo a farlo Quindi abbiamo Veramente bisogno Che questa cosa Venga sistemata Perché Si sta Veramente Danneggiando E a proposito Di valorizzazione Del territorio In data 6 ottobre 2020 È stata costituita Insieme ai rappresentanti E gli enti aderenti Un'associazione temporanea Di scopo Dove la Regione Marche Ha messo un finanziamento Per un progetto Per la valorizzazione Delle risorse genetiche Dell'olivo Nell'area dopo Di Caratoceto Il finanziamento Di un importo Poco superiore Ai 216 mila euro Riente in un programma Di sviluppo rurale Che ha come obiettivo Principale Quello di preservare E tutelare Alcune varietà di oliva E in particolare La raggiola Per identificarne Le peculiarità E incrementare La produzione Per quanto riguardi Le comune di Vallefoglia Con questo tipo Di finanziamento Si andrà a valorizzare Le stupende piantagioni Sulle coline Che vanno da Sant'Angelo in Elizzola Colbordolo Montefabri E tutto il territorio comunale Aiutando così I produttori Agricoltori Che sono sempre più orientati A produrre prodotti biologici Di altissima qualità Per soddisfare La crescente richiesta Da parte dei consumatori La chiesa di Montecchio Della parrocchia Tutti molto gentili Molto disponibili Accoglienti Hanno cercato di aiutarmi In tutto Perché la prima settimana È passata tutta A dire Dove si accende la luce Come si apre Questa porta Dove è la chiave Per quello Chi suona le campane Quindi diciamo Tutte queste cose pratiche Che però Sono importanti Ma l'ambiente Mi è sembrato molto Come posso dire Interessante Molto vivo Molto vivace Tenuto a freno Da questo coronavirus Perché altrimenti E dovevamo fare La sagra della polenta E dovevamo fare I giochi dei quartieri E dovevamo fare Tante cose Che non si sono potute fare Però la voglia di fare C'è Per cui adesso Facciamo la festa Del crocifisso Per dare anche un segnale Che insomma Siamo vivi E che vogliamo Continuare Per quanto possibile Nel rispetto Di tutte le regole Per carità Per le nostre tradizioni Quindi mi sembra Un territorio Molto vivo Molto vivace C'è stato anche Una bellissima Già incontro Con le istituzioni Con il comune Con i carabinieri Insomma tutte Un po' le figure Le varie associazioni La proloco E direi che Un bel territorio Con tante potenzialità Non solo potenzialità Anche cose belle Che si fanno E cose che si potranno fare A proposito di coronavirus Come è stato il ritorno A dire la messa Con i fedeli Proprio qua in chiesa E come sta ancora Approciando un po' La gente Nel ritornare Beh adesso La gente Io non posso fare paragoni Di quanti ne venivano prima Per cui non so dire Se sono di più o di meno Immagino siano di meno Sicuramente i posti Sono di meno In chiesa La gente È tornata Molti sono tornati Molti hanno ancora paura Quello che manca di più Sono le famiglie Con i bambini I ragazzi sono scomparsi Adesso con la ripresa Del catechismo Pensiamo come fare Perché se poi tornano Tutti alla messa Non ci stiamo Effettivamente Ci sono dei problemi Di spazio Di distanziamenti Quindi bisogna che cerchiamo Così Delle modalità Nuove Per far tornare I ragazzi Alla messa Intanto Ma anche per poterli Accogliere Con tutte le Così Tutti i vari protocolli Del caso A proposito Di ragazzi Ultimissima cosa Ha fatto un'iniziativa Appunto Per coinvolgere I più giovani Che spesso Catechismo a parte Sono quelli un po' più lontani Dalla chiesa Ma qui c'è una bellissima Realtà giovanile Per merito di Don Orlando Che ha investito molto Sui giovani Quindi abbiamo fatto due incontri Per conoscerli Cioè non mi avevano mai visto Ed anche io loro Quindi ci siamo visti Per la prima volta Abbiamo fatto una specie Di intervista Una presentazione Un po' reciproca Adesso il 18 ottobre Se tutto va bene Avremo una giornata Un'altra giornata insieme Tutti insieme Per lanciare il cammino dell'anno Quindi direi che Io vorrei continuare Su questa strada Tracciata già da Don Orlando Appunto del coinvolgimento Dei ragazzi Dei giovani Degli adolescenti E dei giovani Qui c'è anche una Sul territorio Un'altra realtà giovanile Che non viene in chiesa Ci sono tanti ragazzi Che non vengono in chiesa Ecco anche su questi Noi vorremmo provare A investire A tendere una mano A offrire uno spazio A proporre delle iniziative Perché anche altri ragazzi Possano avvicinarsi Diciamo alla vita di comunità Non diciamo adesso Venire tutti in chiesa Tutte le domeniche Però a essere comunque Dentro una rete sociale Che poi li aiuti a crescere E ora parliamo di una notizia Che riguarda la Casa della Salute In via Piola Torre A Montecchio Dove Palmi Rocchielli In e qualità di Presidente Dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Nonché Sindaco Delle Comune di Vallefoglia A seguito delle numerose Segnalazioni prevenute Da parte dei cittadini residenti Ha inoltrato una richiesta Delle autorità competenti Per garantire l'apertura Della Casa della Salute di Montecchio Anche il sabato mattina Tale richiesta Se accolta Garantirebbe l'apertura Alle pubblico Di tutti gli uffici Della Casa della Salute E l'erogazione Delle attività ambulatoriali Anche il sabato mattina Oltre ad apportare Un ulteriore servizio Soprattutto a favore Di quei cittadini Che durante la settimana Sono impegnati Per motivi di lavoro La scorsa settimana Abbiamo parlato Del grosso cumulo Di rifiuti Che è stato trovato Lungo la Montellabattese Nella strada Che collega Montellabate Ed Apsella In questa occasione Siamo andati sulle posto E abbiamo parlato Con Roberto Rossi Presidente Dell'associazione Mons Abbatis Ovvero che lui Che per primo Ha segnalato Il fatto in questione Sì Il 24 settembre Così è avvenuto Tutto molto casualmente Ho accompagnato In questo posto Il parroco di Montellabate In questo posto Dove Un'antichissima tradizione Vuole sia stato Martirizzato Il patrono San Terenzio Nell'anno 250 E così Il parroco Viene dalla Romania Quindi è interessato A queste cose Di storia Di tradizione locale E mi ha chiesto Di essere accompagnato Per vedere Questo luogo Dove c'era appunto Un tempo Questo piccolo Corso d'acqua Una vena d'acqua Sul furia Dove appunto La gente Veniva Appunto A prelevare Quest'acqua E così Poi parlando Di questa tradizione Ho detto al parroco Che qua vicino C'era anche Una casa colonica Il rudere ormai Di una casa colonica Dove nacque Credo Ma comunque Trascorse la sua infanzia Don Cesare Stefani Lo storico parroco Di Tavuglia Scomparso qualche anno fa E così Percorrendo Questo viottolo Di campagna Che conduce A rudere Di questa casa colonica Tra questa vegetazione Immersa in questa vegetazione Abbiamo scoperto Questa piccola Discarica Abusiva Discarica Di Materiali Diciamo così Ingombranti Di rifiuti ingombranti E La cosa ci ha colpito Tanto è vero Che siamo fermati Un po' A osservare La situazione Io ho scattato Anche Qualche fotografia E poi Nei giorni successivi Così Tornando a casa Ripensando A questa situazione Ho pensato Insieme Agli altri Ragazzi D'associazione Di denunciare La cosa E di postare Appunto Un'immagine Di questa discarica Nei nostri Sui nostri Social Per sensibilizzare La popolazione E anche Per invitare La popolazione A segnalare Altri abusi Come questi Per segnalare Questi abusi Come hai citato tu Una mappa Della vergogna L'hai chiamata così Vorresti creare Ovvero Una mappa Dove la gente Che segnala Va poi a riconoscere Quali sono queste zone Dove Come vediamo in questo caso Ci sono dei rifiuti Che non dovrebbero essere qui Esatto Una mappa Una mappa Della vergogna Abbiamo così Pensato di chiamarla Credo che sia Una cosa Doppiamente utile Da una parte Crea Indigna Le persone Abbiamo visto Anche dalle reazioni Che ci sono state E quindi Crea una sensibilità Anche da parte Delle persone E dall'altra Credo anche Che sia utile Capire La presenza Di queste Di queste problematiche E la diffusione Di queste problematiche Nel territorio Sia utile Anche per capire Se i servizi Di raccolta E di conferimento Dei rifiuti In special modo I rifiuti ingombranti Siano servizi Che funzionano Oppure Sono servizi Che ha bisogno Magari di un miglioramento O di un adeguamento A Morciola Più precisamente All'interno Del centro commerciale Le 100 vetrine Ha aperto Poco più di un mese fa La palestra My Trainer Lab Oltre a parlare Di quanto sia importante L'allenamento E le mantenersi In forma Per la salute Abbiamo affrontato Anche l'argomento Covid In merito Al ritorno Delle persone Nelle frequentare luoghi Come le palestre Abbiamo creato Questo piccola realtà Nel centro commerciale Di 100 vetrine Di Morciola Facciamo Prima di tutto Personal trainer In quanto abbiamo Ragazzi specializzati In scienze motorie Con esperienza Quindi Cliente che vuole Iniziare un percorso Serio Viene qua In sinergia Con i nostri Fisioterapisti Nutrizionisti sportivi Possiamo creare Un percorso Ad hoc Per lui Per raggiungere i suoi obiettivi Nel breve tempo Altrimenti Per chi si vuole tenere in forma Facciamo il martedì E il giovedì Corsi fitness Come Ginnastica dolce Per le persone più grandi Quindi preservando Le articolazioni Pilates Bello strong Un bel pilates Total body Per tonificare tutto il corpo Soprattutto per le donne Quindi specifico Glambe Glute Addome Poi facciamo cross training Un pochino più ad alta intensità Si brucia un sacco di calorie E funzionale la sera Che praticamente riprende Tutti quei movimenti Che noi facciamo Durante la giornata Ma ci insegna la tecnica giusta Anche solo per alzare Una cassa d'acqua In maniera tale Che poi nel tempo Non avremo infortuni O cose varie Come è stato un po' Il ritorno in palestra Da parte della gente Dopo un po' L'emergenza covid Allora Ancora c'è un attimo Di Sono un po' trattenuti Però noi qua all'interno Abbiamo messo Un'applicazione Con la quale si possono Prenotare Quindi Non avremo mai Più di sette persone Qua all'interno Come vedi Abbiamo tutta l'attrezzatura Per sanificare Abbiamo l'ionizzatore Quindi Cerchiamo di far stare Le persone tranquille A distanza Però di permettergli Anche di venire qua Staccare E sapere che troveranno Sempre un ambiente familiare Una persona Con cui parlare E divertirsi Anche perché allenamento È anche questo Un po' divertimento Un progetto importante La palestra è nuova di Zecca Quindi anche chi vuole Venire a vederla A divertirsi Qui può Anche venire senza impegno E poi magari Se gli piace Decidere di allenarsi Come no Noi siamo sempre qua Aperti Orario continuato Dalle otto alle nove Quindi Di sera ovviamente Quindi poi chi vuole Viene a chiedere informazioni Troviamo magari La giusta soluzione Per la persona E adesso Concludiamo con Lo sport Dove nelle campionate Di serie 2 Di volley femminile La Megabox Vallefoglia Cade a Cutrofiano Per 3-0 Nella terza giornata Di campionato La squadra È nata da coach Fabio Bonafede Dopo aver iniziato Con le due vittorie La stagione E ha il suo primo Stop stagionale La Megabox Ora resta a quota 6 puntine classifica Alle terzo posto Nelle prossime turno La squadra Delle presidenti Ivano Angeli Giocherà in casa Alle pala di Onigi Di Montecchio Contro Martignacco Nelle calcio Nelle campionato Di eccellenza Dopo il K.O. All'esordio L'atletico Gallo Colbordo Lo si è rifatto ampiamente Nella seconda giornata Vincendo 4-2 In casa Contro l'Urbania Inizialmente passati In svantaggio I rosso-blu Hanno ribaltato Il risultato Grazie alle reti Di Calvaresi Bartolini E alla doppietta Di Moratori Termina qua Questa edizione Delle Vallefoglia Magazine Io vi ringrazio Sempre per essere Stati con noi Nella nostra compagnia Qua su Rossini TV Canale 633 Delle Gittà Le Terrestre Vi rinnovo L'appuntamento Venerdì prossimo Sempre alle ore 19 E vi auguro Una buona serata Grazie a tutti